Senza manco farlo apposta, la crimina 7 game contro Simo771, vediamo com'è questo giocatore youtuber, va! Pazzola, ma senza farlo apposta mi è capitato Simo771 Simo771 Lo youtuber che è di persa Lo riconoscete? No, me l'hanno parlato Arriviamo alla domanda Vi mandiamo un messaggio su WhatsApp Simo771 Dico la classe, va a dire Carlo, se mi fanno questa cosa le facciamo più, eh? Ma non sto a balli, che ho wifi, che sto in camera Non abbiamo conto Ti mando un messaggio Ma perché le porti a lei? La porto sì, almeno me alleno, se no ce ne vedo proprio una volta Dai, sta che mi sono detto Mamma mia, Ronaldo messi alle spalle di Icardi, ma che tacco c'è, oh? Ma cosa dice, Lewandowski? Per me ha attaccato un po' di tutti Vabbè, Ronaldo faccio un bello E allora dopo che giochi una volta che merda, li capiscono tutti davanti alla porta, fa poco colore Sì, l'ho visto io prima, ho fatto un tiro a segnare Eh, era bezzo Mi dico affantino, ragazzi Mi fanno un tiro a te Brava, bravo, io c'è questo Ma è buono l'altro di pratica Dammi un attimo giù, come capirla bene C'hai tre difensori, c'hai tre punte, c'hai due sulle fasce Però è un po' diversa da quell'altra È un po' più spregiudicata, capito? Quindi non ci sta più attento quando per di palla Capito? Non ci sta più attento quando per di palla Siamo più scoperti Mi sa trovavo un'altra parte Sì, non so, non ci sta più attento Ma è un po' più spostato, è un po' più spostato E' 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 un po' più spostato Ah, vedi che stiamo andando Grazie. Mamma mia i gradi. Quanto mi ce l'ho bene i gradi. Si può buona tutta? Dopo se c'ho fame volentieri, adesso non amo grazie. Tapp! Dio. Mi piace la mamma al tappo, eh? Di pesa mi ce l'ho bene. Si. Mi si viene. Non si possa fare. Non mi importa, non mi fa. Basta? No. Cazzo, il passaggio è fatto. Ma dai, cazzo. Non ce l'avevi. Io devo provare a capire come si muove Ronaldo ancora. E' molto macchinoso. Non è Ronaldo. Il solido Ronaldo. Se capisco a fare il libro di Ronaldo e Neymar insieme, vedo che faccio. in noi, non mi piace. Nei, non mi piace. Non mi piace. Se l'ho bene. Non è un paese. Se l'ho bene con noi, adesso non ti rende. Non si, non mi piace. Per il nostro paese. dai per Dio insomma sono inventati sta bufala di tango l'anno speriamo ma io non ho ancora bufala ma lui sta bene a Roma, non è il soggetto? aspettiamo se diceva la bufala si va bene ho capito che la società non è umano che vanno i comportamenti sui il poccodrillo ha l'album ma vuoi? a nessuno io ho manca l'uomo, manca l'interno farà la fine del salò che potete vendere perché dice da Roma sta picciare i soldi all'interno ma che sta picciando? se non è venuto di parere o se... vabbè si può comprare qua un po' di chic ma guarda a pensare c'è bene a pensare c'è bene prova a metter ha messi qua Ronaldo di Gratti capite? non lo so 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 chi ci ha messo? mamma aspetta guardi la seconda punta ok raggiungaci mamma non lo so non lo so non lo so non lo so no possiamo vederci lì direttamente non c'è problema non lo so magari ci vediamo non lo so non lo so non lo so non lo so fammi sapere sì ci possiamo vedere le persone se sei preoccupato che cosa cazzo quando ci vedete ci vuole un paio di cose si quando povero di ho fatto mi scrivi sei una persona speciale io metto non mi vado a tutto il cazzo non mi vado a stare te lo ricordi che la cosa è linda il crimine ha 7 camera va vantaggio che se son matto tante volte io dovevo ai campionati mi hai rotto il cazzo non mi faccia fa basta mi hai rotto il cazzo non chiamo più vai a fanno non stasera si ci porta i doppio mondiale e forse c'è là si speriamo sennò compriamo l'altro mamma tante ma mi scendiamo che è successo? mi hai messo di mano e la pesce giù ecco lì il balè capo e il censo non vinci 1 a 0 cazzo no 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 ma ora ti fa account e tutto sennò che ora lo metto al simbolo come lo faccio? con questa partita o come? pure la pennetta le devo mettere a un 4 per l'aggiornamento vabbè quello che si fa? no non so proprio io grazie ma se ci avessi citato come mi paresti guarda qua lì ma giusto così quando mi trovo di una pressione così insomma come avete trovato questo latti? bene però ancora invece dovrò quindi caldo beh sì ma da quella l'altra la quella l'altra era meglio però è di 3 contro 2 3 contro 2 sì io gioco più così mi sento più eh però la devi trovato a te io non so che fino a fare non so che cazzo devo dire l'altra su un contrippiere era un ideale ma sul gioco no ma che ha fatto il portiere non so io ti ho avverso hai occupato best ma non ho tre figurine ma che va dove hai un giugno e sono figurine speciali che te dite se passi davanti al giorno magari non sei figurine dopo dati da soldi ah ma c'è il esempio cantina va chiesa tirato una pezza ma il portiere si è addormito oh vedrò va buvo mi guardava a tecì CR7 ragazzi Ciao 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 Però ci trovo bene 2-0 Rinunciato al bici Oh no Deve un peggio di pulire Bobo Comunque complimenti a Simo771 Che ha giocato veramente una bella partita Bobo Nam Mamma Bobo Nam Bobo Nam Bobo Bobo Sì Bobo Se viene da piovere l'altra volta Che coglioni Oddio S'era attaccato sotto Eccolo lì Bravo Bravo Bobo Adesso non la stanno andando a provare Mi hanno rotto il culo pure a questo Oh Pam No No Non te compra No Non ti compra No No Non ti compra Passa via No ho visto che cazzo l'ha preso se c'è stato psicobedi come faccio? ho capito adesso nonna prende le figurine le apriamo nonno scusa nonno scusa dita pure niente nooo arca miseria non gioca molto bene sembra sembra di sì nonno scusa 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 grandissimo 771 bellissima partita complimenti della 2007 game genau Grazie.